Ero finito a bere davanti ad Algeri, in lontananza si vedeva la costa, e dopo tre ore che ero in acqua, in batellino con i miei, è uscito fuori un sommergibile, che era il sommergibile Villelire, che ci ha raccolto e ci ha tenuto con loro, per fortuna era alla fine della sua missione, quindi sono stati solo tre giorni, e sono stati tre giorni feroci dentro in questo sommergibile, un odore di cimitero, una cosa impossibile, e io dicevo al comandante, comandante mi metta fuori di giorno, bene, poi mi raccoglie alla sera.